Questa sera berrò, e non perché avrò freddo o per qualcosa che mi fa paura, ma berrò piano, da rimanerci ore e senza parlare. In silenzio berrò per sentire la bocca umida e la gola. Infine sarà per avere qualcosa da raccontare tra me e le mie labbra, come in un bacio meno denso.